8 marzo, festa della donna, e beh, do se radunano e sguisciano come anguille in ristoranti, negozi, pubbete, giusto? Ah, non vedi gli spogliarelli, ah, non ti esce, oggi, in questo breve video, vi spiegheremo alcune cose da evitare alla festa della donna, numero 1, mai ubriacarsi, soprattutto se siete a stemi, altrimenti... Quanto siamo mati, hai visto quello che è all'entrata? Ci ha dato la mimosa, ma che ce ne fa? Che c'è? Noi non ci servono. Non ci servono? Ah, faccia di chi ce fa male, te! Però è una cosa, ma noi siamo a stemi, non nemmo mai bevuto in vita nostra, non è che ce farà male. Ma che ce farà male? Un goccetto, vabbè dai. Come te chiami? Boh, non mi ricordo più. Io te riconosco, sei quella che ha fatto Chua, ma non Cap. Oddio. Numero 2 Per i maschietti, ricordatevi sempre di fare qualcosa che la stupisca la propria ragazza, anche una bella mimosa, qualcosa di speciale che li fa rimanere... A bocca aperta... Non come questo. Oggi potrei andarmi a vedere la Roma con amici mia, visto che oggi è un giorno particolare. L'8 marzo. L'8 marzo è la festa delle donne, ma qual'è Roma? Tu devi pensare a me, la donna va soddisfatta in questo giorno, scemo. Non ci ci pensa a questo anno. Ma guardi, che no, questi, no, questi dativi, no. Ma tu, qualcosa di carino, che hai accontentato la donna. Ho portato pure la mimosa. No, ma la mimosa sono leggi. Oh, ma senti, ma vaffanculo, te lascio, tu. Eh? No. Numero 3 Se siete anziani, evitate posti, diciamo, hot. Ah, sono l'onda! Ma, ma lì, che fu? Ma che si fa qua? E qua, la discoteca. Come? La discoteca. E che si fa la discoteca? E se palla, no, qua. E che si fa la discoteca? Se palla, se palla. Che? 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 Su? Che? Se palla, dai, palla, dai. Ehi. Ehi. Oh, ma c'è stato pure un po' di aerelo. Ah, dove? Qua? Si, qua. Chi si spogliere? Ma è tutto muscoloso. Che? 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 Come si mettono un po' su dai fuori. Come si mettono? Si. Ma non vedo lo caro, vedo tutto. Si. Guarda là, guarda là. Guarda là. Guarda là. Guarda là. Guarda là. Ehi. Numero 4. Yeah. Eh, prima di uscire, ragazzi, truccatevi attentamente, ma dico attentamente. Che ne so, vedete pure qualche tutorial su YouTube se non ci riuscite da sole. Altrimenti... Ciao, ragazze. Ciao. Allora, oggi volevo fare un tutorial su come mi trucco quando di solito, ad esempio, mi alzo la mattina e sono più stanca del solito. Capita a tutti che, nonostante, magari, anzi, addirittura se dormiamo troppo, dormiamo male, ci alziamo, ci vediamo proprio messi male. Eh no. Di solito, non c'è niente che va bene. Se ci vediamo un po' colorito spento, con le occhiaie, gli occhi che vanno in giù, che vanno brutti. Bravo. Facciamo tinta, liquido. Ad esempio, oggi uso il Revlon Color State. Dammi tempo! E prendo un pelo di illuminante, questo è in crema. Non funziona. Dammi tempo! Proprio poco, vedete? E se siete scure di carnagione, magari invece di usare quelli sul giallo di illuminante, prendete qualcosa che sia più tipo questo. Così? Sul marroncino chiaro. Ok, dopo aver messo il fondotinta già mi vedo molto meglio. Dopo aver messo il fondotinta e il correttore, tipo questo, sul marroncino chiaro. Dorato. Perché magari troppo giallo potrebbe stare male. Ando sta! Che vuoi? Senti, ho capito io! Basta! Se puoi usci così! Numero 5 Al ristorante, portatevi un'amica non tirchia, altrimenti potrebbe andare a finire così. È meglio stare senza maschi! Cioè, ma che ci dovremmo fare? Insomma, dai. Oh, buona sta cena comunque. Ma quant'è il conto? Guarda, io sto a fare due carcoli così. Io qua matematicamente me c'è sciacco col bidet. Stavo a vedere che praticamente... Minchia! Sono 117 euro, ma noi stiamo mangiando, fammo che cazzo! Tutta roba da beve l'abbiamo preso! E pure tu sei una cammella sei, queste due coppie così! Conta che potete, se ne andate a prendere necroni! Eh lo so, che mi brucia un culo ancora! Che fanno? Come pagavano? Pagavano la romana, dai! La romana? Sì! Dai! Senti un po', vado a fumare un attimo la sigaretta! Sì, sì, tanto io ho trovato un gioco! Fai i voti, ok! Tu fai i voti, eh! Allora, ho preso un necroni, un mattini... Ma questa è in ora che sta a fumare! Questa sta a fumare! Non ha mai fumato questa in vita sua! Guarda questa, non sta lasciata sola! Mi scusi? Sì? Questo è il conto, volevo sapere come mi devo comportare! Una signora è anche andata via, ha detto che devi pagare lei! Come andata via? Si! La crema è buona! No, è andata via con una macchina gialla! Ma io ho... c'è solo 50 euro, il conto era 117, quindi... Tu come faccio? Non lo so, aspetta un chiusura e panina dura! Eh? Spero che questo tutorial vi è stato utile! Auguri a tutte le donne! Auguri! Un bacetto sul capezzolo destro! Anche quello sinistro! Bella per voi! Ciao! 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 Stiamo ancora? Ciao! Ciao! Deота! Ti aspettiamo! Emo! 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 Ma è morta! Emo cazzo! Emo che vedo me nel polso dei tif! Va! Non c'evo mica bisogno del nomi di noi né? No? Mica no eh? No né? Che ve fossino! Bella per te, siamo i cogliosi sai Piace cliccare se ancora non lo sai Vodo un coglione e pion un Instagram scienza Stare senza un rutto non può solo star senza Siamo proprio folli, siamo proprio pazzi Non ci segui su Twitter io ti dico sti gran cazzi Siamo volgari e per questo che piacciamo Iscriviti al canale! Noi vi aspettiamo!